Imparare a riconoscere le truffe e a difendersi dagli inganni. Il comune di Agugliaro, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di tentativi di truffe a danno dei residenti, ha deciso di promuovere venerdì alle 18.30 un incontro per istruire e proteggere le potenziali vittime di raggiri. Ecco, noi vogliamo dare ai nostri cittadini e a chi vorrà assistere degli strumenti per capire e per difendersi da questi truffatori. Le truffe vengono messe in atto in molteplici modi. Truffe online, truffe telefoniche, truffatori che vengono a bussare alle porte e si prendono in giro, diciamo, in certo senso, le persone con tecniche particolari. L'incontro che si svolgerà al padiglione multifunzionale di Agugliaro vedrà partecipare esperti come mentalisti e forze dell'ordine. Ci saranno delle persone preparate che affronteranno questi temi con esperienza pluriannale, ci sarà un ispettore di polizia, ci sarà un esperto in telecomunicazioni e ci sarà un illusionista che ci farà vedere un po' come caschiamo nei trucchi di questi malfattori.